Maria Masella è una delle più apprezzate scrittrici di Gialli in Italia per la casa editrice Frilli di Genova ha pubblicato la fortunata serie di libri con protagonista il commissario Antonio Mariani, diritti venduti per la realizzazione di una fiction e proprio lei ha scelto di promuovere la raccolta I luoghi del noir parlando del racconto del molisano Mirko Addesa, il titolo L'ultimo giuro, uno dei migliori tra i 50 pubblicati sempre da Frilli Masella ha letto l'Incipit molto noir e duro e una parte più intima anche tenera quella di Colette, la donna ricordata dal killer protagonista un attestato di stima per Mirko Addesa che sa scrivere noir come pochi Ciao lettrici, ciao lettori, sono Maria Masella ma sono qui per parlarvi di uno dei racconti dell'antologia I luoghi del noir edito dalla Fratelli Frilli Editori Il racconto è del collega Mirko Addesa, il titolo è L'ultimo giuro Io vorrei dirvi per quale motivo consiglio la lettura di questo racconto in breve perché questo racconto riesce a coniugare secondo me molto bene un lato nerissimo e una tenerezza diffusa è il motivo per cui ho scelto il brano in cui si parla di Colette Vi ricordo il titolo Mirko Addesa, l'ultimo, giuro, il primo dell'antologia Arrivederci alla prossima, ciao a tutti, ciao a tutte